La Willow Tea Room a Glasgow è la quarta ed ultima delle Tea Rooms che lui realizza per Mrs. Creston, ma è l'unica di cui ha la possibilità di progettare l'intero edificio oltre che gli arredi. Si trova nella Saucen Hall Street a Glasgow che era ed è ancora la via del passeggio, la via principale delle attività commerciali della città di Glasgow. Egli progetta di fatto tre livelli e mezzo. Il livello strada ha praticamente una sala principale e una sala retrostante che però la sala retrostante è coperta da una sorta di mezzanino con un ballatoio. Poi abbiamo sopra la Room Deluxe, sopra ancora nel secondo piano fuoriterra un'altra stanza da te, ma l'ultimo piano, cioè questo, non è mai stato arredato. Dalla sezione potete vedere appunto questa è la sezione dell'ingresso, questa è la Room Deluxe, la sala da te per le signore, mentre nel retro vedete la parte del negozio con sopra questo mezzanino. La parte del negozio retrostante è un po' più buia e quindi da sopra c'è la luce che arriva dal lucernario. Questa invece è il basement che verrà sempre arredato da Macintosh però in un progetto successivo di ampliamento. Questi sono i disegni di adeguamento e di ampliamento che vengono fatti sempre dallo studio di Macintosh in cui possiamo vedere il negozio principale, l'entrata principale con il front dining room, la parte retrostante con segnato tratteggiato, vedete questo famoso mezzanino, questa famosa galleria, poi la parte della Room Deluxe, cioè la Ladies Room, in cui vengono costruiti anche i servizi, le toilette per le signore. Ecco questa è la planimetria della gallery. Qui invece appunto rivediamo la sezione però con il progetto di allestimento del piano interrato, del basement e nella planimetria e in questa sezione compaiono dei servizi tecnologici che non vedevamo prima. Ecco Macintosh non solo appunto organizza e gestisce tutto l'arredo, il progetto, ma anche gestisce il cantiere e qui vediamo già da subito uno delle caratteristiche principali del suo modo di lavorare, cioè lavorare fino nei dettagli, perfino nel progettare l'immagine coordinata non solo dell'edificio, dell'et room ma proprio anche del cantiere come vedete con un'idea modernissima proprio di gestione. Questa è una foto datata in cui possiamo vedere la parte frontale senza tutte le scritte, perché il logo e l'insegna era contenuta in queste insegna banderuola, bandiera, che vediamo apparire qui sempre ovviamente disegnata da lui. Successivamente negli anni 80 è stata trasformata in una gioielleria, mantenendo però il servizio di T room nella parte superiore e finalmente oggi possiamo assistere al rinnovato edificio restaurato negli anni, nei primi anni 2000, dove appunto possiamo, siamo ritornati alla T room con un negozio piano terra dedicato a stampe e a materiali su Macintosh. Il progetto è caratterizzato da questi elementi quadrati, vedete, che poi troveremo anche nella famosissima lattice chair o più comunemente detta da noi mortali windows chair, wheel of chair e questo elemento di questi quadrati che vedete un po' declinati in tutta la comunicazione della sala e in tutti anche i disegni, è dato dal fatto che social norm è il termine scozzese per indicare la via dei salici e quindi tutti gli elementi decorativi riprendono un po' questo schema della lattice ma anche il tema del quadrato, ecco la griglia quadrata diventa il fil de rouge che porta alla definizione non solo della comunicazione ma anche come vedremo degli arredi e iniziamo a vedere l'arredo interno del front salon, cioè quello che dà sulla strada di cui qui vedete le finestre e addirittura in questo caso vedete anche le tende realizzate per questo front salon. L'elemento interessante dell'arredo, a parte appunto il fatto che erano le pareti sono pareti esposte a nord, questo è il lato nord della strada e le pareti sono tutte foderate di pannelli bianchi realizzate laccati proprio di bianco con sopra un freggio in stucco che poi vedremo meglio e fino a due metri ecco il pannello bianco poi appunto ci sono queste tende invece le sedute sono sedute tipiche scozzesi è una rielaborazione della ladder back chair è proprio una sedia scozzese perché lui la utilizza? perché è una sedia molto robusta la cui solidità, la cui robustezza è dovuta al fatto che veniva utilizzata in impieghi pubblici quindi in sale pubbliche capite bene che una seduta così alta ti protegge dal passaggio ed impedisce anche che la sedia si rovesci nell'attimo in cui la gente sfollando dal luogo si imbatte per sbaglio, urta diremmo noi per sbaglio la seduta infatti vedete che il montante dello schienale è ben più largo è ben più solido del montante frontale della seduta e anche la forma trapezoidale della seduta ne garantisce sia la stabilità oltre che la comodità l'altro discorso di questa griglia quadrata invece tornando a prima si vede negli sgabelli di servizio e nei tavolini di servizio ecco questa geometrizzazione delle forme che permette un passaggio da piano a elemento tridimensionale è uno degli elementi più caratteristici e interessanti del pensiero moderno di Macintosh che poi appunto si ritroverà come abbiamo già visto in Josef Hoffman ecco questo è il dettaglio invece del back salon e della, qua già vediamo, intravediamo la famosa gallery, quello che noi chiameremo il mezzanino qui potete vedere in che modo è fatta la fotografia ecco qui cambia modello di sedia disegna proprio un'altra sedia è un progetto suo, molto interessante rispetto a questa perché qui ci troviamo di fronte a una sedia con i braccioli con tutta una serie di dettagli funzionali interessantissimi intanto la sedia con i braccioli è una sedia proprio da ristorante da lunghe pause perché permette di stare comodi poi appongiando i gomiti poi appunto vedete che lo schienale in questo caso è inclinato ricordatevene perché le utilizzerà anche questo motivo le Corbusier nelle sue LC4 ma poi guardate anche il dettaglio del foro per afferrarla e spostarla invece di doverla prendere dai braccioli quindi una serie di dettagli funzionali estremamente interessanti ma anche la comodità proprio della sedia ma forse l'elemento più significativo poi scusatemi qui abbiamo l'orologio sempre con l'elemento della griglia ma poi come vi dicevo uno degli elementi più significativi è dato da questa Curved Lattice Backchair in cui viene riprodotta ancora fino a 25-30 anni fa forse anche di più aveva il brevetto solo Cassina scaduti i brevetti anzi sono scaduti dal 2003 giustamente adesso è un po' in produzione in tutto da tantissime aziende ecco e qui vedete questa seduta lo schienale è molto alto e ovviamente riprende capite geometrizzato il motivo del salice ecco questa seduta è interessantissima perché lui con questo gruppo di sedute crea di fatto una sorta di funzione architettonica lo schienale così alto innestato in questo basamento massiccio che ne garantisce la stabilità e la comodità costituisce una sorta di quinta virtuale che configura lo spazio tra le due sedie come una vera e propria dining room piccola separata una dinette diremmo si direbbe in francese separata uno spazio privato che voglio dire benché traforata costituisce un organismo le due sedie affrontate contrapposte costituiscono un organismo unico che bene o male crea una privacy e impedisce a chi è seduto nelle altre sedute retrostanti di percepire chi è all'interno di questo piccolo separe ecco chiamiamolo anche così quindi passa da un elemento di arredo ad una concezione spaziale che invita ad una tetatet ad un rapporto tra due persone completamente diverso è interessantissimo questo no? perché crea uno spazio semiprivato all'interno di una grande ristorante che comunque non può permettersi di fare delle separazioni perché lo spazio è molto lungo col soffitto ribassato sarebbe veramente qualcosa di soffocante ecco la parte superiore adesso qui vedete una fotografia realizzata già negli anni 2000 con il restauro organizzato dalla Willow Tea Room Trust queste fondazioni che gli inglesi si inventano in cui vedete sotto la parte è stata organizzata come spazio galleria vendita e sopra ci sono di nuovo i tavoli per il tè e questa invece è sempre adesso la foto opposta in cui vediamo una zona decorata con i pannelli laterali disegnati dalla moglie di Macintosh in cui c'è sempre la griglia ma anche questa rosa che è uno degli elementi tipici delle immagini della moglie ancora vedete la parte del dining room sopra con la gallery e il riutilizzo delle delle come si chiama dell'adden chair qui invece passiamo alla room deluxe la room deluxe è una è appunto la ladies room era una saletta dedicata unicamente appunto al tè il femminile e qui lui costruisce uno scrigno progetta uno scrigno preziosissimo di cui progetta tutto comprese non solo le sedute i tavoli le cassettiere ma anche come vedete l'appendiabiti il porta l'appendiabiti con il portaombrelli e portacappelli fino anche appunto i dettagli dei pannelli che poi vengono realizzati dalla moglie adesso questo pannello purtroppo è scomparso e qui vediamo la room deluxe restaurata con le vetrate con questo salice questo piccolo ramo di salice stilizzato e con tutte queste lineette tra l'altro come vedete la decorazione continua poi anche nelle pareti con gli specchi che hanno ovviamente la funzione di ampliare la dimensione della stanza anche in questo caso Macintosh viene progetta le lampade la parte superiore di questo ex camino che poi è chiuso cioè i coniugi lavorano in tandem chiaramente qui e nulla viene lasciato nessun dettaglio viene lasciato proprio trascurato viene lasciato al caso da appunto il disegno delle vetrate ha il disegno degli specchi e le posate in argento disegnate proprio da lui addirittura c'è questo esempio di tavolino a cinque gambe che oggi però non si trova più nella collezione dell'attuale Wheel of Tyrion per cui probabilmente che si è andato sparito è andato è andato perso qui sotto vedete invece la parte del basement cioè l'ampliamento che viene fatto dopo l'apertura in cui quando Mrs. Cranston chiede di organizzare una sala più intima probabilmente dedicata quindi a un pubblico maschile e dove anche i colori sono molto diversi questo è il basement adesso è la propria la la il restauro di queste pareti scure con i dettagli viola ecco capite come concepisce uno spazio femminile non rosa confetto bomboniera quanto invece argento come uno scrizio preziosissimo con questa stilizzazione estremamente raffinata del boschetto di salici che doveva essere la che doveva essere la la social hall nelle origini medievali di quando era stata tracciata e fondata la città quindi anche tutti gli elementi decorativi non sono sempre simbolici mostrando come di fatto lui sia all'interno di una di una corrente anche simbolista del lavoro ecco e invece qui nella parte maschile emerge molto di più l'elemento razionale e i colori scuri concludo questo mio intervento con la questione della comunicazione perché anche la comunicazione ha una parte importantissima nel progetto cioè la razionalità di questo progetto che riesce a sfruttare ogni dettaglio ogni elemento voglio dire anche sfavorevole dal punto di vista ambientale la luce da nord quindi la poca illuminazione la facciata molto stretta e lo fa diventare un elemento estremamente significativo attraverso l'organizzazione degli interni ecco in questo progetto lui riesce anche a dare un'idea di unità di intenti tra progetto di comunicazione e progetto degli arredi come vi ho fatto vedere prima questa è la scritta e questo è il lavoro di ferramenta e vi ricordo che già nella Glasgow School avevamo notato come tutti i lavori di serramenti dei fabbri sono funziona estremamente funzionali estremamente rigorosi al progetto complessivo dell'edificio e di fatto lui disegna tutta la comunicazione i menu per Mrs. Cranston i biglietti la cartolina di saluto le cartoline di invito ai vari ai vari locali ecco concludo questo mio breve intervento sulla wheel of tea room sottolineando come l'unico progetto forse del novecento che abbia avuto un così forte interesse per la realtà della comunicazione dell'arredo in maniera così integrale è il progetto di Castiglioni e Uber per lo Spluggen a Milano lo Spluggen è un ristorante progettato tra il 60 e il 62 mi pare da Castiglioni che vede una concezione di ristorante molto simile è un po' un ristorante vagone del treno anche con questi tavoli disposti per la lunghezza però vi faccio notare tutta una serie di elementi studiatissimi da Castiglioni la seduta molto alta appunto per creare una zona privata tra i commensali l'idea del bancone del dinner veloce del cibo veloce al bancone con lo studio di questi sedute con la schienale molto molto alto che in qualche modo impediscono sia la molto alto molto pesante sono in ferro sia il ribaltamento ma soprattutto che qualcuno passando tocchi o dia fastidio al commensale seduto cioè una riflessione straordinaria sul progetto contestualizzato contestualizzato nella situazione come ha fatto Macintosh anche qui vedete la barra di appoggio dei piedi all'altezza esatta e anche questo dà una maggiore comodità adesso spessissimo ci si trova a mangiare in ristoranti o in bar dove vengono sfruttati questo tipo di sgabelli alti senza la barra ai piedi sono scomodissimi insomma ai piedi che pensolano e poi ancora egli invita Castiglioni invita il suo migliore amico che è Max Uber a realizzare questo il progetto di comunicazione integrata che va dalle scritte i loghi i decori sui bicchieri che disegna peraltro Castiglioni l'orologio cioè tutto questo orologio è in vendita adesso da Alexi però appunto come l'altro orologio da polso di Castiglioni è sempre la grafica disegnata da Max Uber sono lavori integrati di comunicazione grafica ma Castiglioni riconoscendo di avere appunto una grandissima competenza straordinaria del grafico Max Uber conferisce a Max Uber il progetto quindi un progetto anche questo da studiare come unione di arredo architettura disegnati integralmente dal designer dall'architetto pensando al progetto specifico pensando delle innovazioni progettuali spaziali e di uso che però vengono realizzate attraverso l'arredo l'arredo un'arredo un'arredo